ciao book dipendenti benvenuti o bentornati sul mio canale purtroppo tornano le maniche corte e io vorrei piangere dove l'interno dove finito ma al di là di tutto questo oggi vi faccio vedere il reading blog il mio primissimo reading blog quindi spero che possa veramente piacervi e sarà dedicato alla lettura di tempi difficili libro che dovevo leggere per il mio gdl sognando con dickens per il mese di marzo l'ho letto a partire più o meno dal 23 marzo se non erro e l'ho finito esattamente ieri sera ma senza continuare a presentarvi quello che poi vedrete nel reading blog vi lascio al reading blog quindi che il reading blog abbia inizio benvenuti ai 76 younger games breve aggiornamento su dove sono arrivata ho iniziato a leggerlo ieri sera che era il 21 marzo oggi quindi il 22 marzo e ieri sono arrivata a pagina 63 oggi ho letto solo cinque pagine nella pausa tra una lezione pomeridiana e l'altra perché stamattina sono andata a fare la spesa e poi ho messo il posto del fribi quindi sono stato un po dietro al post e alla fine non ho ancora avuto modo di leggere adesso mi vedete già preparata per fare attività fisica quindi adesso mi metterò sulla cyclette 20 minuti e continuerò a altri 20 minuti di pesi e roba del genere esercizi vari e poi altri 20 minuti di siclette in cui continuo a leggerlo ho pensato di leggere più o meno 50 pagine al giorno così dovrei finirlo in 7 8 giorni perché comunque è poco meno di 400 pagine e allora le prime impressioni non so perché ma mi fa pensare tantissimo a un film di tim burton non lo so perché proprio le atmosfere il tizio qua che è il padre dei due bambini io me lo immagino come il padre della sposa cadavere non so se avete presente cioè oddio non il padre della sposa cadavere il padre della sposa viva in la sposa cadavere veramente non c'è io ogni volta che leggo ma immagino così e l'altro tizio che è presente in questa storia il suo amico lo immagino come il tizio che si finge loro familiare sempre nella sposa cadavere quindi ho in mente proprio queste atmosfere molto dark molto alla tim burton infatti qui viene descritto una città che è una città di invenzione di invenzione coctown che appunto coke vuol dire carbone in inglese che è una cittadina piena di fumo fuligine carbone una città in cui praticamente nulla è distinguibile tutti i palazzi sono uguali sono fatti di mattoni rossi ricoperti di fuligine che rendono pratica che rende praticamente i riconoscibili palazzi cioè non c'è niente che possa caratterizzare un singolo palazzo e questo secondo me rappresenta pienamente quella che è la visione delle persone che vivono in questa città che sono praticamente sulle interessate soprattutto il padre dei due bambini all'economia ai soldi ai fatti e non alla fantasia l'immaginazione quindi a questi due bambini mancano le cose tipiche dell'infanzia ed è bellissimo cioè io lo sto amando anche il modo in cui scrive è veramente spettacolare vi leggo il pezzetto iniziale giusto per farvi capire tanto non è spoiler ora quello che voglio sono fatti insegnate a questi bambini e queste bambine nient'altro che fatti i soli fatti sono ciò che occorre nella vita non seminate altro e sradicate tutto il resto la mente di animali razionali si potrà prasmare solo sui fatti nient'altro sarà mai per essi di alcuna utilità e la parola fatti viene ripetuta tantissime volte proprio per farci capire quanto siano fondamentali i fatti per quest'uomo le cose che si possono contestualizzare oggettivare e quindi tutto quello che rappresenta la fantasia le fiabe non lo so le favole gli orchi tutte le cose che si possono solo immaginare non esistono e non devono esistere e non lo so è bellissimo e nonostante questo sia un libro un po più pesante rispetto ad Oliver Twist perché lo vedo più come un libro per adulti che per bambini comunque è scritto in un modo, almeno in queste prime 60 pagine in un modo che te lo rende leggero e non riesce a staccarti io ieri sera non volevo staccarmi però alla fine ho dovuto farlo per andare a dormire comunque non voglio dirvi nient'altro perché voglio continuare a leggerlo ovviamente detesto già il padre e l'amico del padre e amo la figlia è quella in cui comunque c'è ancora la fiamma della fantasia viva vedendo quello che c'è scritto qui dietro non credo faccia una bella fine perché qui se non erro c'è scritto che viene data in sposo un uomo più grande di lei di età intendo comunque è un matrimonio fatto per affari e non per amore quindi dubito che per lei finisca bene adesso vado a continuare a leggerlo sulla siglette ho finito di fare attività fisica e sono arrivata a pagina 88 praticamente in un punto in cui iniziano ad essere introdotti nuovi personaggi è una città veramente troppo strana vedremo, adesso continuo a leggere un po' perché tanto stasera cucina Michele quindi io posso continuare a leggere tanto la doccia la faccio dopo cena con questa luce direi quasi celestiale finalmente riesco a farvi un aggiornamento di lettura oggi è il 25 marzo e sono le 23 e 50 allora ieri e l'altro ieri non ho letto praticamente nulla perché sono le due serie della settimana due delle tre serie della settimana in cui vedo Gossip Girl con Anna di With Fire & Books in realtà avremmo dovuto vederlo anche stasera però alla fine abbiamo rimandato oggi quindi ho continuato finalmente a leggere un pochino in realtà ho letto poco, ho letto una ventina di pagine stasera quindi dovrò un po' accelerare perché come vedete sono ancora qui e vorrei finirlo entro il 30 perché poi il 21 abbiamo la discussione sul gruppo aggiornamento del 27 marzo ore 23 e 24 sono praticamente a pagina 164 quindi sono molto indietro sulla mia tabella di marcia perché in questi giorni ho avuto un bel po' da fare tra andare a fare la seconda dose del vaccino, studiare eccetera tra l'altro l'altra sera mentre vi stavo dicendo dove ero arrivata in pratica mi si è riempita la memoria del cellulare e quindi in realtà voi non avete sentito niente vi stavo dicendo che sono arrivata praticamente al famoso punto in cui la ragazza, l'uo si chiama, viene data in sposa a questo tizio ricco e diciamo importante nella società ed è un matrimonio praticamente combinato contro la sua volontà anche se lì in realtà nemmeno le esprime veramente la sua volontà e infatti il pezzo in cui il padre le comunica che questo tizio le ha fatto la proposta cioè insomma ha richiesto la sua mano mi ha colpito tantissimo, mi sono commossa quasi fino alle lacrime perché è proprio un pezzo in cui si capisce che lì si è rassegnata con l'esistenza cioè sa che non riuscirà mai a venirne fuori che non riuscirà mai ad avere una vita diversa, una vita normale che non sia solo incentrata sui fatti e quindi è un pezzo che mi ha colpito veramente un sacco adesso ve lo ricerco perché ve lo voglio leggere tanto alla fine non è che sia spoiler perché appunto lo sappiamo che comunque sposa un tizio che non vuole sposare ah e un'altra cosa che mi ha colpito molto è che in pratica il libro è diviso in tre parti la prima parte si chiama la semina e la seconda parte si chiama il raccolto e mi ha fatto veramente riflettere perché è come se il padre avesse seminato nei bambini tutti i fatti, tutta l'importanza delle cose concrete e non avesse quindi seminato null'altro, nulla che possa appartenere effettivamente all'infanzia e poi nell'età adulta c'è la fase di raccolta almeno io l'ho interpretata così però ho appena iniziato la seconda parte quindi non so se la mia interpretazione è giusta oppure no però comunque sono adulti quindi ci potrebbe stare comunque è un'interpretazione che mi piace e adesso vi ritrovo il pezzo che vi dicevo ecco l'ho trovato che cosa so io padre, disse Luisa con il suo tono pagato di gusti e sogni, di aspirazioni e affetti di tutta quella parte della mia natura di cui simili lievi cose si sarebbero potute nutrire quale via d'uscita ha avuto dai problemi che possono essere dimostrati dalle realtà che possono essere toccate con mano io stavo per piangere perché è veramente molto profondo e poi c'è un pezzo più giù che continua in pratica questo discorso e che dice ma padre, continua lei, quale strana domanda da porre a me le preferenze infantili di cui persino io ho sentito parlare come comuni tra i bambini non hanno mai avuto il loro innocente alloggio nel mio petto avete avuto tanta cura di me che io non ho mai posseduto un cuore bambino mi avete allevato così bene che non ho mai sognato un sogno da bambina mi avete trattato così saggiamente padre dalla culla fino a questo momento che non ho mai avuto una certezza infantile né una paura infantile questo pezzo mi ha messo veramente la pelle d'oca ed è finora il pezzo più profondo del libro nonostante comunque ci siano altri pezzi belli profondi anche perché adesso sono stati introdotti altri personaggi le cui storie si intrecciano a quelle dei due fratelli come ad esempio Sissi, la ragazza che all'inizio andava a scuola con loro oppure Steven e l'altra ragazza di cui adesso mi sfugge il nome che lavora, ragazza oddio, penso 35-40 anni adesso non ricordo comunque che lavora in pratica nella fabbrica insieme a Steven insomma ci sono delle storie che si stanno intrecciando e comunque si toccano anche altri temi come ad esempio l'alcolismo insomma ci sono delle storie che si stanno intrecciando alle 23.35 del 30 marzo e ho appena finito il libro ed è bellissimo devo ancora realizzare bene mentalmente pensare bene ai vari personaggi e tutto quello che è successo prima di scrivere una recensione quindi sicuramente domani nella conclusione del blog vi dirò un pochino meglio cosa ne penso però i due temi principali di questo libro che sono appunto le cose che mi hanno colpito di più sono sicuramente la denuncia sociale si conferma un libro in cui la denuncia sociale di Dickens è particolarmente presente come più o meno tutti i suoi libri quindi quello è un aspetto fondamentale di questo libro lo vediamo proprio sempre perché è dalla parte dei lavoratori di quelli che vengono chiamati braccia praticamente in questo libro con la B maiuscola che ci fa capire quanto l'onestà e l'essere una bella persona non dipenda dall'essere ricchi o essere benestanti ma piuttosto da un qualcosa che si ha dentro e lo vediamo perché si contrappongono diverse figure con caratteristiche economiche e personali completamente diverse l'altra cosa importante di questo libro è l'importanza dell'infanzia e dell'immaginazione della possibilità di poter avere cose non solo materiali nella propria vita come appunto l'immaginazione, il divertimento, l'essere bambini dentro sempre è come una cosa fondamentale della vita e il modo in cui tutto viene descritto è assolutamente sconvolgente è veramente perfetto questo libro io non ho critiche da fargli c'è solo una piccola cosa verso la fine che non so ancora se mi è piaciuto come si sia sviluppato oppure no devo ancora pensarci bene però ovviamente non posso dirvela perché sarebbe uno spoilerone quindi non vi dico nulla però è veramente un libro da leggere sono strafelice di averlo letto adesso non vedo l'ora domani di parlarvene un pochino meglio quando ci avrò dormito su e poi non vedo l'ora di parlarne anche nel GDL perché voglio sapere anche gli altri che cosa ne pensano quindi niente, ci vediamo domani mattina quando vi spiegherò meglio cosa ne penso bene, adesso che ho avuto la notte per rifletterci su posso fare un commento un pochino più decente rispetto a quello di ieri sera su questo libro innanzitutto, come vi ho già detto milioni di volte è un vero e proprio romanzo sociale perché c'è forte la critica sociale e politica da parte di Dickens nei confronti della società e della politica del tempo una politica è una società che ignorava completamente gli operai che praticamente non avevano diritti e ad esempio nel libro vengono definiti proprio braccia con la B maiuscola proprio a definire il fatto che sono solo strumenti nelle mani di chi governa che vengono utilizzati, non sono delle vere e proprie persone cioè non hanno dei diritti come tutti gli altri individui vengono considerati come delle braccia come forza lavoro semplice e pura quindi da questo libro emerge proprio un pessimismo sociale perché non c'è via d'uscita uno dei protagonisti, infatti Stephen che è uno dei miei personaggi preferiti del libro è rassegnato la sua vita e parla continuamente del vivere nella melma cioè lui descrive la vita degli operai come un vivere nella melma costantemente e che non si possa fare nulla per contrastare questa melma quindi è veramente una visione molto pessimista ma che ci sta completamente con il periodo in cui è stato scritto come era appunto la realtà dei tempi il libro è ambientato in una città di fantasia una città industriale, completamente industriale che si chiama Cocktown ovvero letteralmente la città del carbone quindi già tutte queste cose ci fanno capire quanto la storia sia fortemente incentrata sul lavoro la città stessa viene descritta come un luogo lugubre pieno di fuligine, di aria insalubre che può far sal male le persone da cui le persone scappano per chilometri per fare una passeggiata cioè prendono proprio il treno per andare in campagna lontano in maniera tale da non essere più in questa città con questo tipo di aria è una città veramente tristissima i palazzi non si riconoscono l'uno dall'altro perché sono ricoperti di fuligine sono tutti fatti uguali con i mattoni rossi quindi tutto fin dall'inizio ci fa capire quanto sia stato portato all'estremo nella narrazione proprio per trasmetterci un certo messaggio da quello che ho letto poi pare che Dickens si sia ispirato a Manchester per la città di Cocktown perché in quel periodo ci furono delle rivolte da parte dei lavoratori inoltre bisogna anche considerare che da ragazzino, da piccolo lui è stato costretto a lavorare in fabbrica e questa esperienza l'ha praticamente segnato per tutta la vita e molto probabilmente anche da questa sua esperienza che poi ha attinto per creare i vari suoi romanzi sociali perché il tema sociale non è presente solo in tempi difficili ma in molti altri suoi romanzi però onestamente tra tutti quelli che ho letto forse questo è quello in cui l'ho sentito più presente presente quasi in ogni pagina è anche un libro che fa sorridere non nel senso di sorridere di gioia ma perché è un libro ricco di sarcasmo nei confronti dell'utilitarismo infatti il padre dei due bambini che vi ho nominato spesso come pure il suo amico sono praticamente due persone che sono interessate solamente ai fatti alle cose concrete tutto il resto non esiste quindi tutto è una statistica tutto è numeri, cifre, guadagno non c'è nient'altro oltre questo non ci sono i sentimenti, non ci sono le emozioni non c'è nulla, non c'è un'anima non c'è un cuore ci sono solo numeri e numeri come Luisa vengono educati in questo modo e quindi non hanno una possibilità di vivere realmente un'infanzia è come se oggettivamente non l'avessero avuta non ci sono mai state favole o fiabe nella loro vita e questo aspetto, questa vita si contrappone completamente a quella di Sissi che invece è una bambina il cui padre lavora in un circo quindi lei vive in un circo ed è circondata scusate la ripetizione da un mondo fatto di fantasia di risate di cose belle che non siano soltanto fatti soltanto numeri soltanto cose da studiare e uno dei messaggi più importanti del libro almeno a mio avviso è proprio questo che viene appunto detto da una delle persone che lavora nel circo che se non erro è proprio il proprietario se ricordo bene è ovvero che nessuno è fatto per lavorare solo o per studiare solo c'è bisogno anche di divertirsi e di svagarsi quindi questo per me è stato un grandissimo messaggio perché ad esempio, adesso divagherò un pochino io molto spesso mi sento in colpa quando mi prendo una giornata o un pomeriggio un momento libero per leggere o disegnare e non studiare mi sento fortemente in colpa quando lo faccio però oggettivamente ci serve quel momento è giusto prenderselo anche perché se si studia e si lavora soltanto ci si esaurisce completamente e non si rende nemmeno bene come si renderebbe se ci si prendesse quelle pause quindi le pause sono utili e fatele e non sentitevi in colpa i miei personaggi preferiti sono stati Steven e Rachel che sono praticamente due operai e di cui non vi posso dire praticamente nulla perché qualsiasi cosa io vi dica sarebbe spoiler di Steven vi ho detto prima che è praticamente rassegnato alla sua vita di operaio in cui non ha praticamente diritti in cui la sua voce non verrà mai ascoltata e quindi si è rassegnato a vivere nella melma mentre Rachel è praticamente la sua luce, la persona buona la diciamo classica visione della donna Angelo diciamo così però tutto il resto ve lo lascio scoprire perché sarebbe spoiler e invece è molto bello scoprirlo da sé altro aspetto che mi è piaciuto tanto e che ho trovato anche in altri libri di Dickens è il suo dimostrare come l'onestà non è sempre collegata all'origine o al ruolo sociale che si ricopre infatti ci sono alcuni personaggi che pur avendo un'origine chissà quanto importante dal punto di vista familiare o comunque ricoprendo un ruolo sociale importante in realtà poi sono delle persone non tanto belle mentre viceversa alcuni operai sono delle bellissime persone dentro come Steven per esempio l'ho solo amato questo personaggio infine l'ultimo motivo per cui mi è piaciuto veramente tanto è che in alcuni tratti mi ha ricordato un po' Cine Tempestose non tanto per quello che succede perché alla fine succedono cose completamente diverse però per alcuni sentimenti provati dei personaggi o il modo in cui sono successe alcune cose mi ha ricordato la scrittura di Emily Bronte e anche per il fatto che c'è una tra virgolette redenzione per le generazioni future perché in pratica come viene detto all'inizio del libro Grandgrid non ha una sola fila Gradgrid Gradgrid Grandgrid Gradgrid non lo so ma anche altri tre figli se non erro di cui però praticamente non si parla mai si parla solo di una delle figlie in un certo momento che si vede che ha un'educazione completamente diversa da Tom e Luisa per una coincidenza che non vi sto qui a spoilerare e si vedrà come praticamente lei diventa un'adulta completamente diversa eppure in Cine Tempestose c'è un personaggio della generazione futura che riesce a redimersi nonostante abbia avuto un'origine simile ai personaggi della generazione precedente però vabbè se non avete letto il libro probabilmente vi sto solo confondendo comunque leggete anche Cine Tempestose mi raccomando il libro mi è piaciuto un sacco si merita 10 stelle per me è il miglior libro di quest'anno finora quindi abbattuto Piranesi e io lo consiglio veramente a tutti perché è scritto in maniera leggera nonostante sia comunque un libro dell'ottocento vi assicuro che non è per niente pesante perché appunto spesso c'è la satira quindi fa venire sulle labbra un sorriso comunque scorre veloce perché la storia è interessante succedono sempre cose ma nonostante tutto ci sono comunque dei momenti di riflessione dei momenti in cui Dickens fa trasparire la sua critica nei confronti della società con certe frasi proprio acute messe lì, precise che però appunto non risultano mai pesanti sia perché non sono chissà quanto lunghe e sia perché sono scritte in un modo che fa sorridere quindi in conclusione leggete questo libro se l'avete già letto fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e ricordate sempre che l'immaginazione e la fantasia sono fondamentali in questo mondo perché senza queste cose non abbiamo un'anima e senza un'anima non siamo persone siamo solo oggetti fatti bene, il video finisce qui spero che vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti se volete altri reading blog io vi ringrazio come sempre vi ricordo che nell'info box trovate tutti i link per seguirmi il link dell'affiliazione ad Amazon per comprare questo capolavoro se il video vi è piaciuto mettete like vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina in maniera tale da restare sempre aggiornati io vi ringrazio ancora e noi ci vediamo al prossimo video ciao book dipendenti grazie a tutti i nostri amici